Musica Benvenuti ragazzi e benvenuti nel canale Play Channel Ragazzi oggi sono qua con un nuovo video ma non siamo nel mio canale Siamo nel canale di Beppe0601 Bella ragazzo, bravo Oggi sono qua con il primo video delle sponsorizzazioni su Youtube O anche nella playlist sponsorizzami Allora ragazzi questa qua sarà la playlist che ho dovuto fare per quando ho fatto 300 iscritti vi ho fatto un messaggio Vi ho fatto un video che si chiamava, aspetta che lo andavo a vedere perché non me lo ricordo più Che si chiamava speciali 300 iscritti e ora una sponsor per voi Allora in questo video, in questa playlist andrò sul vostro canale Oggi sono nel canale di Beppe0601 Iscrivetevi subito, no scherzo No, cioè iscrivetevi perché è molto bravo Comunque no, oggi sono qua con questo bisogno di interfaccia Per farvi vedere un pochino l'informazione e i video che fa Così giusto per fare la sponsorizzazione Comunque nell'informazione andiamo subito a vedere E c'è scritto Bellissimo a tutti ragazzi, io sono Beppe e benvenuti nel mio canale Youtube In questo canale faccio Crash of Thrones e Minecraft Ovviamente qualche altro gioco Quindi ragazzi se vi va andate a seguirlo nella pagina Facebook E andate a vedere questo canale se vi piace Crash of Thrones o Minecraft Andiamo ad andare in discussioni se c'è qualcosa di interessante Perché così ci sono anche dei messaggi che potreste trovare Ragazzi ci tengo informati che forse l'episodio di Minecraft esce domani Comunque ci sono tutte le cose che potreste trovare Per essere aggiornati nei suoi video Comunque andiamo ad andare con i suoi video per vedere quanti ce ne ha Anche se vediamo che ce ne ha molti Come potete vedere ci sono Minecraft, Minecraft, Minecraft Clash of Clans e anche qualche vlog Qualche video divertente Come potete vedere Se andiamo a carica altro Ce ne sono molti altri Poi ho fatto anche una presentazione più un intro E poi tanti altri video Quindi ragazzi Questa sponsorizzazione potrò fare singolarmente O in più persone Quindi potreste c'è un video dove sponsorizzo più persone E poi tutto Dopo questa sponsorizzazione su YouTube Farò anche la sponsor Su La mia pagina Facebook Che vi invito a seguire Dove come potete vedere sto pubblicando anche video Abbastanza divertenti per voi E poi farò la sponsor time Canale da gaming Clash of Clans Minecraft PC Video fluido e molto divertente Vi faccio anche dei commenti sul canale Quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto E volete essere sponsorizzati nei commenti Iscrivetevi Sponsorizzami Per essere sponsorizzati su YouTube Vi occorreranno 20 video E degli argomenti precisi Per la sponsor sui social Cioè la sponsor su Facebook 10 video E comunque qualche argomento Quindi ragazzi Se vi è piaciuto Un commento Un mi piace Un iscrivito al mio canale Se non siete ancora iscritti Tra i miei precedenti video Per non sponere più Da poi è tutto Poi ci vedete Ci vediamo in un prossimo video Bella